Buongiorno Spadavecchia e Russomanno, grande vittoria dell'Emma Villas Siena in Puglia al Palagrotte di Castellana 3 a 0 è finita questa sfida al vertice del girone bianco della serie a due del campionato di pallavolo maschile e tanti altri impegni, uno subito in casa questa domenica contro Lauris Palessano che all'andata ha battuto in Salento l'Emma Villas. Vi chiedo un commento su, innanzitutto tornando indietro, a Spadavecchia sulla partita contro Castellana Grotte, buona prestazione dei centrali, tanti muri fatti, 10 muri, grande prestazione della squadra, un commento a Spadavecchia e poi anche a Russomanno sulla partita di Castellana Grotte. Sì, buongiorno a voi, intanto grazie per avermi chiamato per questa conferenza, per me è un amore essere qui, sono davvero soddisfatto sia per la gara di andata che la gara di ritorno contro Castellana, per quanto mi riguarda è una gara molto sentita perché io sono cresciuto lì, sono cresciuto a Castellana Grotte, sono davvero soddisfatto per quello che abbiamo fatto, per aver conquistato i tre punti a Castellana e essere i primi in classifica. Per quanto riguarda la gara contro Alessano, all'andata l'abbiamo persa, un po' per colpa nostra, un po' per altri fattori, però domenica sono convinto che ci rifaremo alla grande, poi si pensa a Tuscania, ma ora abbiamo prima Alessano, poi la Coppa Italia. Ciao, buongiorno a tutti, anche io sono molto satisfatto per la vittoria contro Castellana Grotte, abbiamo fatto una grande prestazione, molto importante per quanto riguarda il prossimo Gironi, che porteremo questi sei punti che abbiamo fatto contro di loro e quello è più importante per adesso. Ora facciamo una buona settimana di allenamento perché arriva Alessano e come ha detto Spada Vecchia abbiamo perso la prima partita fuori e per noi vincere qua a casa è una cosa che sta dentro di noi. E poi settimana prossima penseremo in Tuscania che è una settimana secondo me più importante, non della stagione, però più importante della storia del Mavillas. Però penseremo da lunedì a poi. Fondamentale è stato più che altro, oltre alla vostra prestazione tecnica, è stato soprattutto l'atteggiamento, quello che un po' forse era mancato in alcuni frangenti la settimana prima contro Tuscania. Sì, più che altro l'atteggiamento è una questione di approccio alla partita, cioè nel senso abbiamo sbagliato tantissimo, anche qui in casa abbiamo sbagliato tanto noi. Spero che non succede in Coppa Italia, ma spero di no perché nella finale non possiamo sbagliare, ci stiamo allenando tantissimo proprio per non sbagliare, stiamo facendo tante battute ricezione per non sbagliare le battute e tanto lavoro con il coach. Poi spero che c'è sempre una finale, anche loro giocheranno a bomba, anche noi si vedrà chi vincerà, vincerà il migliore. È uno degli obiettivi importanti delle Mavillas, vincere la finale. Il primo l'abbiamo raggiunto, che è l'accesso alla finale, ora raggiungiamo anche il secondo. Io penso che ogni partita è una storia, veramente qua contro Tuscania non abbiamo fatto la nostra migliore partita, però sappiamo che Tuscania è una grande squadra, non è facile dibattere una squadra come quella, però sappiamo che la settimana prossima sarà una storia diversa, un atteggiamento sicuramente avrà e faremo di tutto per vincere e portare questo primo scudetto, non so, la prima Coppa per la Mavillas. Quello che vogliamo e stiamo lavorando. A voi chiedere, a Spadavecchia, come valuta invece la sua crescita personale? Comunque si è vista, fin dalla prima partita all'ultimo? Sì, come ho già detto, sicuramente allenandomi con grandi personalità come Fabroni, come Willy, come Stefano, migliori sia mentalmente che tecnicamente, anche non volendolo, però ovviamente non è pensabile una cosa del genere, quindi sono davvero contento di essere qui, di crescere giorno dopo giorno. Ovviamente ci sono le difficoltà, ma quelle ci sono per farti capire quanto sei disposto tu a crescere. Sono davvero contento per tutto questo. Quali saranno per la prossima partita a Montalessano gli avversari da tenere sott'occhio? Per quello che stiamo vedendo in video, in partite che hanno fatto, è una squadra che gioca molto con le bande, con scacciatori opposti. Quello che dobbiamo fare bene è per stare con un muro ben fatto perché non sarà facile. È una squadra che non ha niente da perdere perché non ha più possibilità di arrivare al prossimo girono. Possiamo stare bene con la testa giusta e fare una grande partita per arrivare bene la settimana prossima, che è una nostra settimana importante. Avete parlato, Renato, anche di muro. Io volevo chiedere a entrambi. Castellanagrotte ha vinto tutte le partite quest'anno, tranne una in Coppa Italia e quarti contro Cività Castellana. Nelle partite onziena, 3-0 qui e 3-0 lì, soffrono loro alcune caratteristiche vostre? E poi, come spiegate, il fatto che a muro forse avete giocato la migliore partita quest'anno lì a Castellanagrotte contro giocatori come Moreira, Canuto, insomma, temuti da tutti che hanno sempre fatto bene, avete fatto una grande prestazione per a muro. Come si può spiegare questa cosa? Sì, va bene. Si sa che la nostra squadra è più forte. Se spingiamo il piede sempre sull'acceleratore, se stiamo sempre a mille, non ce n'è per nessuno. Sono convinto di questo, siamo tutti convinti. Quindi, più che una questione tecnica, è una questione di approccio alla partita. Io sono convinto di questo. Io ho una fiducia grandissima per la nostra squadra e sappiamo che quando giochiamo bene possiamo battere tutte le squadre. Contro Castellanagrotte abbiamo fatto Mure vincente, ma anche Mure più, che è importante. Ogni tanto facevamo un po' di fatica. Questa partita contro Castellanagrotte abbiamo fatto una prestazione buonissima per quanto riguarda Mure. E anche vogliamo fare tutte le settimane. Non è facile.